. La notizia più bella per l'influencer così è l'arrivo di mamma marina di guardo a Los Angeles, dove lei e il fidanzato Fedez, 27, aspettano il parto ormai da oltre un mese. Le ultime settimane per la coppia non sono state facili, un paio di complicazioni hanno reso la gravidanza un po' più difficile e hanno costretto Chiara al riposo, quasi, assoluto. Top stories ma adesso al loro fianco c'è anche mamma marina e questo rassicura. Lei sarà qui con me quando Leoncino verrà al mondo, spiega Chiara via social, come didascalia un selfie con la madre. Che come benvenuto, le ha subito preparato un piatto di pasta al ragù. Le due, che non sono mai state amiche, credo nell'educazione severa, ai figli bisogna amarli, non essere loro complice, hanno un legame speciale e questo vale anche per le altre donne di casa Ferragni, le sorelle Valentina, 26, e Francesca, 29. Per me le mie ragazze sono il massimo anche se non avessero raggiunto traguardi ambiziosi. Ha raccontato orgogliosa mamma marina Vanity Fair.it Non ho mai avuto aspettative, ho sempre voluto che fossero felici delle scelte fatte. E dopo tanta donne, la quasi nonna attende con ansia l'arrivo del maschio. Da femminista ho molto amato avere tre ragazze, ma sono molto felice per il primo nipotino maschio in arrivo. Bisognerà aspettare ancora un po'? Chiara deve continuare il riposo, e i frequenti controlli in ospedale, ma adesso ha una marcia in più. Nel backstage della proposta di nozze di Fedez e Chiara from Social Med.